Juventus, ovazione dello Stadium il ritorno di Pogba. Ansa, Roma, 28 febbraio finalmente Paul Pogba, il francese oggi ha vissuto il secondo esordio con la maglia della Juventus. Un'ovazione dello Stadium ha accolto il ritorno in campo del centrocampista, lanciato da Allegri al minuto numero 69, del derby vinto 4-2 contro il Torino. L'ultima apparizione in bianconero del polpo risaliva al 2016, ora il nuovo inizio dopo lunghissimo periodo di riabilitazione post-infortunio al ginocchio accusato lo scorso luglio. Pogba è tornato in campo dopo 315 giorni di assenza, l'ultima sua partita prima di oggi era stata quella del 19 aprile 2022 quando aveva giocato soltanto 10 minuti nel Manchester United sconfitto 4-0 del Calitri Liverpool, Ansa, virgola. Ansa, virgola.